Il maltempo acuisce i problemi della città. È il caso del viale che porta al parco virgiliano di Posillipo, luogo tra i più frequentati di Napoli, crocevia di giovani e turisti. Il manto stradale è pieno di buche e sono frequenti gli incidenti tra i centauri. A peggiorare la situazione le radici dei pini che penetrano nel sottosuolo rialzando l'asfalto. Vento e pioggia inoltre hanno divelto numerosi segnali stradali. Sono tanti anni che qui la zona è un po' malandata quindi noi speriamo che questa cosa sia repristinata più presto perché comunque la strada è impraticabile. Succedono anche degli incidenti, motorini, biciclette. Quindi speriamo che questa venga repristinata più presto anche perché comunque è una zona comunque abitata anche molto frequentata da bambini, famiglie. C'è sempre un problema di buche stradali e soprattutto di dissesso del manto che si acuisce anche soprattutto poi quando c'è maltempo a seguito di piogge o comunque insomma di forti temporali. Vedo che la situazione comunque effettivamente è quasi invariata. Cioè torno a Napoli magari in media una volta ogni due mesi e in memoria ricordo comunque sempre le stesse buche che sono posizionate sempre lì che magari vengono chiuse e poi comunque poi si riaprono alla prima pioggia e quasi si può fare una mappatura insomma della situazione. Però ho notato che qui le strade sono un po' diverse nel senso sono un sacco di buche sulle strade hanno bisogno di un po' di lavoro, c'è un po' di lavoro da fare per le strade perché comunque noi veniamo qua, vogliamo passeggiare anche fitando una macchina però troviamo un sacco di buche sulle strade, non va bene così. Restando sul versante collinare, quartiere Vomero, la Commissione Giovani del Comune di Napoli ha stabilito i tempi e l'iter per trasformare la vecchia stazione elettrica Atan di via Guido-Mezinger in un centro polifunzionale destinato all'aggregazione di quartiere per la struttura passata alla quinta municipalità. Quindi che sarebbe una cosa bellissima, cioè meravigliosa perché questa struttura così non può restare in quanto è solo recittacolo di topi e di spazzatura quindi invece è una cosa bella per gli altri, no? Signore, lei ha memoria di da quanto tempo è così? Io abito qui, nei dintorni, da 35 anni e così. Questa è una potenzialità inespressa perché è solo degradante, è diventato un punto a tre lati questo edificio ed è una discarica a tre lati praticamente. Tutti quanti si prendono la libertà di scaricare l'impossibile e anche parecchi extracomunitari magari perché non hanno altre possibilità vengono addirittura a fare i loro bisogni.